L'abito romantico e l'abito serico Ciao, sono Antonio, ne approfitto di questo viaggio a Fukuoka per salutare tutte le mie spose giapponesi e in particolare le spose di Fujikami, che è un'azienda con la quale collaboro da tanti anni e che nutro molta stima. Mi trovo in questo bellissimo spazio contornato dalle bellissime e gentilissime ragazze che sanno rappresentare bene il mio stile. Grazie